amici e amiche bentornati ci troviamo di nuovo qui su poste che il manager 2023 con il nostro franz kaiser sì il franz che ha appena fatto la diegi bastogliegi insomma non al top che ha fatto un ecbon frankfurt ragazzi che non vedrete nulla non l'ho registrato ma l'ho appena giocato siamo arrivati i settimi siamo riusciti a rimanere vabbè nel gruppone perché tanto se è arrivata la fu arrivato il gruppo compatto per poi giocarsi il lo sprint e c'erano i migliori c'erano se philipsen jacobsen c'erano di mai c'erano veramente van harte c'erano i migliori a sprint ha vinto di mai bravo lui siamo riusciti a rimanere un più o meno a ruota più o meno a ruota questi erano sono degli sprinter veri non avevamo più 2 ci portava a sprint a 69 abbiamo sfruttato più caldo al nostro accelerazione che era bruciante a 70 è andato a 80 scusatemi l'accelerazione quindi settimi bene è comunque un piazzamento infatti abbiamo fatto che lavoro da gregaria mi ha fatto tutto in quella tab in quella cosa l'incredibile ora andiamo alla trovo leon ragazzi la trovo leon è un po complicata perché abbiamo contro tutti i migliori sul pavè e ne ha veramente poco giusto alla fine van harte van der Poel, Laporte, Van Barley, Valshid, De Bont, Turgis, De Maer, Senneschol, Van der Berg, Benot e Petit che è il nostro compagno di squadra van den Bosch, il nostro Nokia che era scusatemi l'avevo visto prima a van Marche scusatemi sapevano Marche che ha un 77 in pavè e noi abbiamo ancora un 74 è ancora un pelino troppo poco dovremmo fare infatti stiamo allenando quello per fare il prossimo avanzamento di livello, avanzamento di livello che abbiamo fatto in realtà ci ha sbloccato la possibilità di competere anche al Tour de France in questo momento possiamo correre in qualsiasi corsa senza nessuna limitazione di livello dobbiamo semplicemente in questo momento fare una volata fino al livello 33 che mi sembra sia l'ultimo per fare diciamo unicamente gli aumenti di statistiche in questo caso prima di iniziare ragazzi come al solito vi devo chiediare con la solita richiesta di lasciare un bel like al video iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivare la campanellina per essere sempre aggiornati su ogni video e commentino tecnico tattico che purtroppo nell'ultimo nell'ultimo episodio dico purtroppo ha funzionato perché mi piacerebbe tanto non doverlo chiedere ma ahimè devo chiedere pure questo c'è l'abbonamento a 0 99 super grazie l'abbonamento su Twitch un sacco di roba non vi tedi oltre facciamo continua e andiamo a correre 3d per dire l'atrobo leon ogni anno correremo questa corsa ogni anno e ogni anno proveremo a vedere dove siamo rispetto agli altri perché non serve solo avere alto livello di pavè serve avere anche un alto livello di pianura in questo caso noi ce l'abbiamo però è simile mi sembra di ricordare fosse simile a pavè 74 tutti e due chiaro che con un 74 ok in forma più 4 c'è gioco mi hai dato meno 4 alla liegi baston liegi almeno la trovo leon dammi un più 4 no non chiedo non credo di chiedere la luna in questo in questo caso saranno 196 chilometri virgola 9 che affronteremo tutti insieme poi come detto nel prossimo episodio vedremo le prossime due corse insieme magari gli ultimi 30 chilometri di entrambe qua vediamo la potenza dei criteri minuto fine va bene questa roba non ho mai visto ho fatto forse una volta che terminato fine allora abbiamo più uno che per carità del signore tutto grasso che cola ma c'è chiesto di fare gregario ora non lo faremo se non per pochissimo noi cosa facciamo o questa questa tattica ora andiamo a tirare a 65 che è poco è molto poco arriviamo a circa 50 per cento quindi un 15 chilometri di diciamo di lavoro da gregario che ovviamente qua posso fare tranquillamente senza tirare senza affaticarmi troppo sì stai prendendo freddo ma non ti preoccupare non avrai troppo freddo qua ovviamente partono tutti gli attacchi la mia andatura permette di questi attacchi di andare senza troppi problemi noi stiamo affaticando hertz sta provando ad andare noi forse dovremmo diminuire un po lo sforzo vedete che alla fine della fiera tornano qui potremmo anche lasciare un attimo sfogare la corsa ok dovrebbero essere andati le fughe le fughe sono andate non ce ne saranno altre lavoro 25 per cento facciamo un altro po di chilometri poi ragazzi ci rimettiamo sereni sereni in mezzo al gruppo dovrebbe essere passato un aggiornamento nella giornata di ieri che ha modificato soprattutto nei grandi giri e in corse con leggermente collinari quelli che quelle che facciamo con i casi all'inizio stagio all'inizio carriera dove vincevamo perché andavamo arrivano in fondo alla fuga dovrà aver sistemato questa cosa non far arrivare sempre comunque la fuga e quindi forse hanno sistemato qualcosa ora questi continui attacchi ci stanno un po rompendo le due uova nel paniere per quanto riguarda l'obiettivo del lavoro che però arriva arriva come puntuale come le tasse 15 km fatti abbiamo tirato per 15 km ora stiamo tranquilla tranquilli e sereni senza fare troppi sforzi lasciamo anche andare la pera che va a fare questo attacco importante sono in fuga in 8 9 10 11 12 ok 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 è un bel gruppo è un bel gruppo con anche i nostri compagni di squadra noi ovviamente ragazzi faremo come l'altro problema dell'anno scorso noi ci metteremo a seguire i migliori dato che in questo caso siamo pure gregari non abbiamo la squadra a dietro abbiamo un misero più uno che comunque ci aumenta il pavé a 75 a 76 comunque ce lo porta buono e anche parla che pianura vedete ricordavo giustavamo 74 22 va a 75 una resistenza che aumenta una grinta che aumenta bene 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 sono gli unici parametri che verranno presi in considerazione ovviamente possiamo difenderci per un po nella scorsa turbo leon forse abbiamo fatto una top 20 credo qua sarebbe il massimo riuscire a entrare non dico in top five sarebbe veramente il massimo la top five e perché ci metteremo dietro dei nomi importanti e vuol dire rimanere vicino a quelli forti probabilmente a questo punto puntiamo alla top ten come all'air bon frankfurt facciamo due top ten una dietro l'altra può anche essere un buon viatico per il cambio di squadra cambio di squadra che ragazzi ve lo dico vorrei andare alla boras go che ha una buona squadra una buona squadra overall diciamo in questa terza stagione chiaramente diversa da quella di quest'anno nella nella nostra realtà intendo chiaramente anche perché diciamo un po di roleplay andiamo nella scuola tedesca world tour da tedeschi quindi non saremmo una brutta cosa stante il fatto che doveva arrivare un'offerta sperando che la gdr ci ci manda di ci mandi l'offerta un po più in là perché non mi sto trovando male quei ragazzi quindi molto probabilmente se non arriverà l'offerta in tempi stretti potrebbe darsi che ci facciamo un altro anno alla alla gdr non mi dispiace come squadra assolutamente e dovrebbe grazie anche ad alcuni risultati soprattutto la nostra al nostro milano saremo alla nostra milano saremo vinta dovrebbe avere anche un buon livello di punteggio lo andremo a vedere più avanti magari alla fine di questo episodio andiamo a vedere come posizionata tenendo conto che appena partito giro d'italia quindi un po di miei compagni di squadra sono andati la io chiaramente però i grandi giri lasciamo perdere vediamo l'anno prossimo se ci aumenta recupero almeno fino a 66 proviamo a fare un grande giro per vincere una vittoria di tappa che quello che avevo detto nel caso diventa è un classicista che prova a vincere anche le tappe un cacciatore di tappe proviamo a vincere le tappe sia giro che attura alla vuelta proveremo a vincere qualche una di più fosse al giro chiaramente non servirà a fare episodi lunghi in cui facciamo in tre episodi soltanto giro d'italia perché non combattendo per la classifica generale totalmente inutile piuttosto giro d'italia me lo potrei anche corre tutto da sole fa una sintesi veloce di magari di una ventina di minuti non è veloce ma una sintesi di tutto giro d'italia in un solo episodio ci devo pensare non è in questo momento nei miei pensieri diciamo non è una priorità in tanti 12 di testa hanno 22 minuti di vante si va bene a 22 minuti hanno già vinto due minuti di vantaggio il gruppo si è chiaramente già un po inizia spesso a spezzarsi noi da bravi classicisti siamo davantissimo siamo praticamente davanti avuta night quindi a vambar levander pearl se ne show se sono tutti qua forse un motivo ci sarà e quindi noi siamo lì davanti soprattutto per le classi che non ve lo non ve lo smetterò mai di ripetere magari siete nuovi siete capitati per la prima volta su questo video perché avete comprato possa che di manager volete qualche consiglio nelle classiche state a un certo punto quasi mancano 50 km quindi siamo nel momento caldo state davanti soprattutto quando c'è di mezzo il il pavé questo è leggerissimo e guardate adesso un po di difficoltà stiamo facendo ma giusto perché stiamo molto avanti nella corsa guardate qua la barra rossa alla barra verde a metà però ragazzi state davanti perché se vi se vi trovate un blocco qualcuno che fa da blocco voi rimanete indietro dovete fare il tipo della fatica per stare davanti e quindi non ha nessun senso finché non l'avete questa abilità che l'abilità di inserimento che vi promette di sgusciare molto velocemente in mezzo al gruppo e spendere molto meno all'inizio è fondamentale sarà davanti ma è fondamentale anche per gestire la corsa non si può gestire la corsa dalla cinquantesima posizione se non hai dei gregari davanti noi in questo caso siamo da soli quindi senza nessun problema dovevo gestircela noi da soli ora earth sisteme vota l'acqua perché non l'abbiamo finita sta arrivando il ragazzo credo spero vedete vedete qua è una stupidata ma si è creato un buco vediamo ve lo faccio vedere guardate qua è una stupidata ragazzi ma poi di vite dovete sparare qualcuno si mette davanti a tirare e si davanti ci sono i migliori i migliori è un problema ora hertz ci sta portando l'acqua può potrebbe tirarcela che può passacela anche vamballa che fa proprio attivo ok c'è la passata è riuscito bravo e mo noi siamo con i 52 migliori ora quelli dietro si sono ragganciati ma ragazzi punti a capo torneremo punti a capo tamini o prova un attacco mi fa piacere vedere brutto messo qui ok iniziano un tratto di pavé al 2 a due stelle su cinque quindi abbastanza easy io inizio a mettere lo sforzo a 90 così almeno se qualcuno parte un attacco un po più aggressivo noi ci siamo dietro perché sennò è un problema mancano 30 chilometri potrei mettere per 4 però devo stare molto attento quelli davanti sono qui davanti molto vicini vedendo la pena non hanno non si sono molto messi d'accordo perché non è molto stanco la pera praticamente come noi quindi vuol dire che non ha non si è affrontato molto attenzione perché turgis passe parte van der poel anche però si mette solo davanti e non da seguito all'attacco ok vediamo a brutto messo noi siamo lì tranquilli e sereni noi gestiamo la corsa praticamente dalla quinta a sesta posizione decima posizione ogni tanto è perfetto ragazzi turgis è un qualcuno turgis è qualcuno a tenere in considerazione ma con noi non abbiamo più 5 che dice ok siamo veramente abbiamo la possibilità di noi dobbiamo sfruttare eventuali situazioni di favore noi adesso in questo momento vedete sono un po più indietro la cosa mi dà proprio fastidio anche perché ma hudo prova un attacco noi ci mettiamo un po più davanti solo so che premere il cursore di sforzo quando siamo a 90 spreca tanta barra rossa ma ho bisogno di star davanti ragazzi sennò da dietro è finita quelle poche occasioni le sprechiamo tutte io mi mettere anche dietro a uno come va ma va ma ho letto van harte e de mer è uscito va me va ma non so neanche io sto cercando eccolo messi ma ti è perché uno tra van harte messi ma te lo metto lo punto le botte continue al microfono assolutamente non professionali spossa ma i 14 chilometri dall'arrivo e siamo i 14 chilometri dall'arrivo e hanno guadagnato quelli davanti attenzione a bello dio c'è la pera davanti come squadra siamo messi bene ora la jumbo che sta tirando a 10 dell'arrivo un po tardino però mi sa no chiedo per un amico e mi sa che non ci arrivano più ragazzi mi sa che ci tocca a provare a far un dico un attacco ma la roba simile mi devo mettere dietro manate allora può mettermi dietro a but van harte non credo riusciremo ad arrivare davanti la fuga è arrivata qui probabilmente qualcuno non si è messo d'accordo e ha fatto ha fatto la mandracata con i davanti sarà complicato è sarà molto complicato teniamo gelino un po in anticipo io ho chiesto di stare dietro a but van harte no dietro a arno de mer che per carità del signore però ok un po di gente viene recuperata sono in sei davanti perché stanno ovviamente un po crollando ma non va diventa due chilometri dall'arrivo ragazzi ce l'hanno quasi fatta ce l'hanno quasi fatta ce l'hanno a forse forse riescono andare a riprendere adesso forse forse vediamo su quest'ultimo tratto di pavè prova uno scatto da adesso perché l'arrivo è praticamente qui vediamo e no qualcuno ce l'ha fatta che riel de sal vince e noi la top 10 ce la ce la perdiamo proprio di tanto anche ce la vediamo di tanto andiamo fuori anche dalla top ten raga da top venti siamo arriviamo ventunesimi che sfiga però ragazzi guardate qua but one art solo settimo il nostro compagno di squadra quinto quindi ci pigliamo dei punti sono molto contento mandato il quindicesimo benot benotto scusatemi diciottesimo beh diciamo che è andata male è andata male perché nessuno è andato a gestire la fuga e così funziona al però così è ancora fattibile chiaro ha vinto uno da tre stelle davanti a uno da tre stelle davanti nato da tre stelle e mezzo no atti uno senza stelle il primo decente la pera che a quattro stelle poi arrivano del bove ma night che è arrivato solo settimo ragazzi una troppo non particolare noi ci facciamo 14 punti buttali via voglio dire e noi ci vediamo nei prossimi episodi ragazzi come detto nel prossimo episodio proveremo tour de finisterre e bush delle bush dolén del in chattelin perché le facciamo questa corsa che sono due classiche collinari dobbiamo stare un po attenti spero ci diamo in mano la squadra siciliano ma ci diamo in mano la squadra possiamo provare a vincere dipende da chi abbiamo di fronte ragazzi però vorrei portare a casa un'altra vittoria tra la fine dell'anno abbiamo portato a casa uno scalpo di valore immenso anche perché noi se andiamo a vedere in questo momento come vi ho promesso dei risultati classifiche la mia squadra noi siamo quarantaduesimi al mondo quarantaduesimi al mondo non è male e la nostra squadra è tredicesima quindi top e noi siamo quelli che ha portato più punti di tutti perché questa è una classifica che si aggiorna e va avanti ogni volta noi annualmente questo evento siamo quelli che ha fatto più punti di tutti e potremmo anche essere contesi insomma la buona è andata molto meglio chiaramente la buona è andata molto meglio perché anche va un po perché ha fatto mille punti sema blason noi siamo gli unici di sopra quota mille in seconda cosa ne fa a solo 500 punti però siamo tranquilli e sereni in come si voto sono qua per esso solo la movistare fuori per appunto la presenza della cofidis vediamo se poi ci sarà una lotta il team di sm che è sceso a continent a pomene rome ne era sfuggito comunque ragazzi io direi che quindi come vi ho detto andando a vedere un attimo per chiudere il video la ricontratto come vedete l'interesse è alto per la gd molto alto è alto che parlate niti racing che provano a fare una una squadra interessante la borans dove avevamo speso i contatti si sta alzando si sta alzando la stiamo alzando noi diciamo non mi dispiacerebbe andare alla borans non mi dispiacerebbe restare a questo punto anche alla gd insomma vediamo come va vediamo come va ragazzi per agire avrebbe cos'è fa lenni martinez e servo a marche che sono perfetti per il nostro france come diciamo aiuto o noi aiuto a loro sono una squadra abbastanza forte intercampiabile e quindi vediamo cosa ci riserva al futuro detto questo ci vediamo nel prossimo video con queste ultime due corse ultime due corse del ciclo diciamo della nostro con della nostra condizione top poi abbiamo un po di corse diciamo che andiamo diretti poi a vederci i campionati tedeschi dove abbiamo abbiamo delle possibilità chi lo sa chi lo sa lo vedremo e lo scopriamo solo venendo prossimi episodi grazie quindi mi raccomando like descrizione campanellina come al solito e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ragazzi